Ben ritrovati ai conti in tasca, undicesimo appuntamento della nostra rubrica settimanale dedicata ai temi dell'economia e oggi torniamo ad occuparci di economia del mare in particolare, economia di un settore soprattutto protagonista, specie in questo periodo in cui tutti bene o male ci avviciniamo alle sospirate vacanze estive, il settore dei balneatori, di economia del mare ce ne eravamo già occupati qualche settimana fa, parlando dei pescatori, della marineria, delle difficoltà anche di quel settore che ha attraversato un momento, sta attraversando tuttora un momento particolarmente delicato, soprattutto per via dell'aumento dei costi dei carburanti, il caro gasolio che ha portato anche all'interruzione dell'attività, degli scioperi diffusi sul territorio, anche qui da noi in Abruzzo. Oggi ci sposteremo, come dire, sposteremo leggermente l'obiettivo per andare più sulle coste, ad occuparci di quell'economia che viene generata sulle coste del nostro territorio. Lo facciamo con l'ospite che abbiamo in studio con noi e che saluto subito, si tratta di Luigi Corradetti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per averci ospitato. Vice presidente della cooperativa dei balneatori Lidi delle Rose di Rosetto e Pineto, quindi oggi ci rappresenta un po' questo mondo, questo tessuto imprenditoriale. che sta soffrendo purtroppo, si può dire in balia delle onde, perché sono usando una metafora che si sposa bene nel luogo dell'operiano. Parliamo subito, insomma, visto che ci introduce in questi termini un po' marinareschi, ma anche un po' pessimistici, diciamo così, perché quali sono i problemi che state affrontando in particolare? Innanzitutto i problemi non sono odierni, ma nascono da tanto tempo, perché sono quasi 16 anni che la categoria vive nell'incertezza totale, praticamente, da quando è stata recepita la direttiva che porta il nome della Bolkestein, che è una direttiva servizi, direttiva che praticamente determina una serie di attività per quanto riguarda i beni che insistono sul demanio pubblico, quindi non solo le spiagge, ma noi adesso ci occuperemo delle spiagge, poi magari potremo anche allargare il discorso. Che cosa ha fatto, diciamo, il nostro governo in questi 16 anni? Non ha fatto niente, ha fatto semplicemente delle proroghe, molti politici sono riempiti la bocca più volte di tante promesse, di tante situazioni, tra l'altro noi siamo in Europa, ci sono altre nazioni che hanno una problematica simile, come la Francia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo. Tutte quelle soprattutto, insomma, che gravitano sul bacino mediterraneo e hanno molte coste. Esattamente, loro già 10-12 anni fa hanno risolto il problema, chi in un modo, chi in un altro, comunque, per cercare di far continuare l'attività a chi operava già in quegli anni. Quindi altrove ci si è orientati su una sorta di continuità, cioè non c'è stata quello che molti temono possa accadere qui in Italia, cioè una specie di tabula rasa e rimettere a gara le concessioni. Purtroppo non è un timore, perché adesso ci arriviamo, perché poi sono intervenuti altre vicende. E quindi, diciamo, invece in Italia si continuava a fare delle proroghe e siamo arrivati proroga su proroga al 2018, perché adesso se ci mettiamo a fare tutta la storia diventa molto lungo il discorso. E nel 2018 il governo Conte I, per capirci, fu emanata attraverso una legge che porta il nome di centinaio e che faceva parte di quel governo. governo e la legge era la 145 del 2018. Che cosa diceva questa legge? In poche parole stabiliva un periodo transitorio fino al 2033, entro il quale il governo si impegnava a fare la mappatura, a fare le gare, a istruire tutta una serie di situazioni per poi, sempre per ottemperare a quello che dice la direttiva europea. La direttiva, ricordiamo, che rientra insomma nella cornice della libera concorrenza. Dei servizi, poi entriamo anche nel merito un attimino della Volkestein, così per far capire un po' tutti i tasselli. Quindi il Conte I ha fatto questa legge, i comuni che per conto della regione gestiscono il demanio, applicando la legge, hanno fatto le proroghe a tutti i concessionari fino al 2033. Quindi per la prima volta dopo 10-12 anni che c'era un'incertezza, quindi nessuno faceva un investimento e non parliamo solo delle attività, ma c'è anche tutto un indotto che lavora per i balneatori, quindi ci sono chi produce gli ombrelloni, chi produce i lettini e altri tipi di servizi, quindi era un po' tutto fermo e questo ha dato, questa 145 del 2018, una boccata d'ossigeno e sono ripartiti gli investimenti. Tant'è che lo vediamo anche nella nostra realtà, molti lidi si sono rinnovati, sono venuti anche nuovi, c'è stato il passaggio dalla generazione mia alla generazione più giovane, quindi con visioni anche più moderne e sono stati fatti mutui, perché comunque c'era una prospettiva fino al 2033. 33, esattamente, poi che cosa è successo? Che dal conte 1 andiamo al conte 2, il conte 2 sappiamo tutti che è cambiato il panorama politico che sosteneva il governo, i decreti attuativi che doveva emanare per completare, quindi per far funzionare questa legge, perché senza decreti attuativi la legge non funziona, diciamo subito che l'Europa non ha mai detto una parola sulla 145, ma parlavano solo in Italia, parlava l'Agicom, parlavano gli amici di Lega Ambiente, che io non ho mai capito il motivo per il quale mi piacerebbe molte volte fare un confronto con loro, ma non ci riusciamo. L'Europa non ha contestato lo spirito di questa direttiva, di questo intervento del governo italiano? Non ha eccepito nulla. Questi decreti attuativi, oltre a stabilire le modalità delle gare, doveva fare la mappatura, perché dobbiamo capire se la risorsa è scarsa o meno, perché è uno dei capisaldi della Bolkestein, perché se non c'è scarsità di risorse addirittura la Bolkestein non si applica. Però questa mappatura tuttora non esiste, nessuno l'ha vista e praticamente sono iniziati dei contenziosi, perché alcuni comuni si rifiutavano su indicazioni soprattutto dell'Agicom, ma anche da altre parti e sono intervenuti alcuni tribunali amministrativi, uno in particolare quello di Lecce, ha praticamente chiesto dei lumi per capire se e come bisognava comportarsi nei confronti della 145 e la questione è andata al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato nell'ottobre dell'anno scorso ha fatto una sentenza che noi definiamo, per noi è scioccante tra l'altro, perché non solo... Quando vi parla noi... Parlo della categoria, della categoria... In generale, a tutte le sigle che rappresentano la categoria. Io tra l'altro... Qui c'è una compattezza di intenti da parte di tutti i rappresentanti. C'è qualche scucitura, ma diciamo che il 90% delle imprese balneare la pensano allo stesso modo, ma in questo caso diciamo il 100%, perché la consulta che cosa ha detto? Ha detto innanzitutto che la 145 non è più applicabile perché è in contrasto con la direttiva servizi, perché mancano i decreti attuativi. Quindi non è colpa dei balneatori se mancano i decreti attuativi. I decreti attuativi sul delega del Parlamento li doveva fare il governo, non li ha mai fatti. Quindi questo è una responsabilità politica immensa. Detto ciò, è andata oltre, perché ha detto che il 2033 non esiste più. Il 31-12 del 2023, tutte le concessioni, non parliamo di concessioni balneari, parliamo di tutte le concessioni, dovranno andare a bando. Perché quella è la data che viene indicata dalla Bolkest. No. No, ecco, schiariamo anche questo. Assolutamente. Che data è quella? Perché è emerso questo 2023? Perché la Bolkest non dà nessuna data, no, la consulta, l'ha deciso, la consulta, ha deciso che il 2023 di sua iniziativa una sentenza del massimo organo amministrativo, diciamo, giuridico che abbiamo in Italia ha detto questo bisogna fare, il 2023 finisce tutto. Non solo, ma ha invaso anche il potere legislativo perché ha intimato il Parlamento, quindi le due Camere, sia il Parlamento che il Senato, che praticamente non possono fare più nessuna legge, nessuna proroga, quindi ha invaso un potere dello Stato che non è suo. Ragione per la quale le categorie unite hanno fatto un ricorso alla Corte Costituzionale che a breve verrà discusso e capiremo. Insomma, questo ci ha veramente ripercorso in pochi minuti una storia, una vicenda complessa, lunghissima, e che non è finita perché appunto c'è un ricorso pendente che quindi... Non solo un ricorso, un ricorso l'abbiamo fatto noi, poi novità di un mese e mezzo fa, il Tar di Lecce ha chiesto attraverso, diciamo, anche attraverso le categorie che hanno un attimino spinto il Tar a fare questa cosa, l'UMI al Corte di Giustizia Europea, perché a questo punto, cioè, siccome noi non abbiamo soddisfazione a livello nazionale si parla di una direttiva europea, facciamo parlare direttamente... Insomma, si adiscono tutti i livelli della giustizia. E si sta ingarbugliando un po' tutto. Nel frattempo il governo è andato avanti, perché? Perché ha messo questa questione all'interno del decreto concorrenza. Ci aveva già provato alla fine del 2021, noi con una manifestazione del 28 dicembre del 2021 siamo andati a Roma, poi c'erano delle limitazioni per il Covid, però comunque una grande parte ci sta... Siete riusciti comunque a fare la nostra voce, la Questura ci ha limitato come presenze, siamo stati ricevuti, i nostri vertici nazionali sono stati ricevuti, noi stavamo lì sotto ad aspettare e praticamente in quel momento fu tirata fuori dal decreto concorrenza la questione balneare. Nel mese di marzo è stato rimesso, inserito. Tra l'altro io ho sentito molti politici perché per il balneare si blocca il PNRR, allora sfatiamo subito... C'è infatti questo esatto, questo argomento, che diciamo la Bolkestan comunque è un intervento a livello di concorrenza, diciamo così, è come se fosse condizione per poter ottenere i fondi europei del PNRR, perché l'Europa insomma condiziona i fondi del PNRR ad alcune riforme che lo Stato deve fare? Nulla di più falso perché questa questione negli accordi per quanto riguarda il PNRR non è stata considerata, è stato il governo Draghi, ma Draghi in persona e poi vi spiegherò anche perché, perché molti ministri sono rimasti anche imbarazzati da questo, ha inserito di nuovo nel decreto concorrenza la questione dei balneari e ha minacciato più volte di porre la fiducia. C'è stato un grandissimo braccio di ferro perché noi in questo periodo abbiamo continuato a interloquire con i ministri, in particolare con il ministro Garavaglia che è il nostro ministro di riferimento, del turismo, che si è impegnato più volte a trovare una soluzione ed è stato smentito più volte perché poi lui affermava delle cose, Draghi ne faceva altre, come la situazione attuale. La situazione attuale che è stata inserita nel decreto concorrenza, è stata fatta una legge, un contenitore, anche un'altra volta un contenitore vuoto, dove ci sono alcuni indirizzi, è stato già approvato al Senato, credo che la prossima settimana venga approvata alla Camera e anche qui mancano i decreti attuativi che il governo si impegna ad emanare entro il 31-12 del 2022, sempre se il governo ancora c'è, perché anche questo... No, ma anche perché poi i tempi cominciano a stringere, vista la scadenza del 2023. Tra questi decreti torna questa famosa mappatura che non nessuno sa... di come e quando debba essere fatta. Quindi veramente siamo, noi siamo sulla graticola perché ovviamente... Ma di fatto quali sono i motivi che vi pongo insomma da un punto di vista opposto, insomma contrario a questa attuazione così pedisse, così stringente della Bolkestein? Ora, ovviamente gli interessi economici e imprenditoriali di una categoria che nel corso degli anni è intervenuta su concessioni appunto che di fatto si sono anche un po' tramandate di generazione in generazione in molti casi perché molto spesso forse la grande maggioranza delle imprese balneari sono imprese familiari, no? Esattamente, oltre il 90%. Dei sacrifici, delle storie personali impegnate su questo settore. Oltre a questo, insomma, ci sono altre motivazioni che vi vedono contrarie? Ma noi ci vediamo innanzitutto l'approccio della legge perché alla fine noi siamo per uscire dalla Bolkestein e adesso quando ci sarà la mappatura dimostreremo che secondo noi la Bolkestein non è applicabile. Ma detto ciò, se bisogna fare queste gare, tra l'altro la consulta aveva anche indicato che nel caso si fanno le gare bisogna riconoscere al concessionario scienzi, qualora non riesca a vincere la gara, un indennizzo congruo per quanto riguarda la sua attività, anche perché c'è uno che perde lo stabilimento, l'attrezzatura. Cosa ci fa con l'attrezzatura? Diciamo anche di più il personale, quindi ci vuole anche una garanzia per i dipendenti che lavorano in queste attività, un riconoscimento dell'avviamento commerciale, tutto questo nella legge che stanno votando in questi si parla di un riconoscimento sul valore dell'ammortamento residuo, però è scritto in un modo molto vago e anche in questo caso si rimanda a un decreto attuativo, quindi praticamente hanno fatto questa legge che non significa niente perché nessuno è molto povera di contenuti. Riguardo invece alle conseguenze anche per gli utenti, per i cittadini, quali potrebbero essere? Allora, innanzitutto qual è la cosa che io sento spesso, soprattutto nelle TV nazionali, network che si parlano dalla mattina alla sera, questo è il terzo tema più dibattuto in Italia, anche da comici come Crozza che ogni tanto è diventato uno sparasentenze di… praticamente dopo il Covid, la guerra in Ucraina veniamo noi, tutti dicono che i nostri detrattori dicono che voi avete un bene, che sfruttate un bene dello Stato, hanno pagato un canone risorio, si parla di 15 miliardi di euro di fatturato, un canone di 100 milioni, tutte cose, notizie veramente date così… il canone, partiamo dal canone, ci puoi fare anche degli esempi, che poi varia da situazione a situazione? Varia da situazione, il canone si applica… Chi lo stabilisce? Si, si, stabilito da una legge nazionale, poi le regioni mettono a loro volta delle addizionali, però il canone minimo di una concessione è di 2.500 euro, ovviamente dipende dalla superficie che questa concessione occupa, un canone di una concessione tipo dalla nostra zona varia dai 10 ai 15 mila euro, quindi questo è… poi ci sono alcune concessioni che sono state acquisite dallo Stato, le cosiddette concessioni pertinenziali, che pagano 10 volte il canone rispetto, quindi non è che il canone è basso, ma noi non ci siamo mai opposti a una revisione del canone, revisionate il canone, qual è il problema? Cioè, non è che i balneatori si possano revisionare il canone da soli, lo deve fare sempre il governo, basta un consiglio dei ministri e revisionavano il canone, ma la cosa più buffa è che nella legge che si andrà a fare per istituire queste aste, il canone non è oggetto di asta, quindi questa è una situazione. Cioè nel senso che all'asta cosa verrà messo di fatto? Verrà messo un investimento che una persona propone di fare su quel bene demaniale, verrà valutato in base all'investimento che uno propone, il numero di anni di concessione per poter ammortizzare… A voler fare un esempio, un paragone mi viene in mente, tipo un project financing che si presenta, un privato si presenta, un ente pubblico propone un progetto, un'idea, poi viene valutato, approvato bene e poi viene messo a gara anche chiunque altro voglia partecipare. Perfettamente, e questa cosa che cosa determinerà? Innanzitutto i grossi gruppi finanziari, quindi chi ha una disponibilità economica, noi non guardiamo magari le nostre spiagge, ma pensiamo alle nostre perle che abbiamo in Italia, pensiamo alla Sardegna… Tra l'altro abbiamo un esempio di qualche giorno fa, della Red Bull che è stata segnata a una spiaggia per circa 10 milioni di euro, è chiaro che questi grossi gruppi, se vengono a Giulianova, a Roseto, a Tortoreto, a Pineto, non prendono un lido, partecipano… Il più possibile. Il più possibile e quindi ci sarà un'omologazione dell'offerta, ci sarà il McDonald del mare, questo sarà, e i costi per gli utenti, quindi questa è la concorrenza, è al contrario, i costi li eviteranno perché queste entità… Diminuendo l'offerta diciamo della… No, ma loro omologando l'offerta, perché voi pensate ovviamente si ridurranno tantissimo le imprese, il numero delle imprese, si ridurranno tantissimo, quindi ci sarà un monopolio dell'offerta, a quel punto l'utente se per un ombrellone in prima fila a Giulianova spende 700-800 euro, poi ne spende 3.000, perché questi signori comunque devono rientrare nell'investimento, non è che… Ma avranno mercato però poi in questo senso… Questo è un bel punto interrogativo, quindi anche tutte quelle… Io parlo sempre dei nostri detrattori, perché molti, forse noi non siamo simpatici, io non lo so, noi cerchiamo sempre di accogliere nel modo migliore e di rendere le spiagge fruibili e sicure, perché poi i ballinatori, torniamo al canone, non pagano solo il canone, garantiscono il salvataggio, che non è una cosa… Cioè c'è una… garantisco dei servizi, sono conosco su quelle spiagge. Per tutti, non solo per i clienti, perché uno, chi soffrisce del mare comunque ha la garanzia del salvataggio. La nostra categoria, mi viene da ridere molte volte, paga l'IVA al 22%, nel settore turistico l'IVA è al 10%, evidentemente noi non ci occupiamo di turismo, io questo l'ho detto personalmente anche al Ministro Caravaglia, mi ha risposto con un sorriso come hai fatto tu, noi paghiamo l'IMU, una tassa sulla proprietà, questo fa sorridere ancora di più, ecco questo quindi, adesso poi si può… C'è una prospettiva, insomma voi cosa vi aspettate da questa situazione, insomma siete ormai rassegnati in un certo senso? Noi non siamo assolutamente rassegnati perché noi proprio ieri abbiamo fatto un'altra riunione, noi percorreremo tutte le strade che ci concede il diritto, tra l'altro stavamo proprio parlando di andare anche al Tribunale del diritto dell'uomo per quanto riguarda sempre la comunità europea perché secondo noi ci sono alcuni aspetti, alcune vicende che si sono verificate in questi anni che hanno danneggiato la categoria in modo sostanziale, quindi diciamo la partita è ancora da giocare, non siamo neanche al primo tempo, siamo a cinque minuti dall'inizio. Prima quando all'inizio faceva cenno a quello che è stato fatto altrove, come hanno risolto questo, insomma, come l'hanno applicato? La Spagna praticamente ha fatto una specie di rinvio di 75 anni e nessuno in Europa ha detto ha. In Portogallo hanno fatto una via di mezzo facendo delle gare diciamo e hanno riassegnato le spiagge a chi le aveva. Allora innanzitutto dobbiamo fare... Ma questo non potrebbe essere, perché molti dicono che nelle eventuali gare future ci potrebbero essere ovviamente delle condizioni favorevoli rispetto a chi già appunto detiene queste concessioni. Aspettiamo sempre decreti attuativi. Non si può sapere niente. Si è parlato che se un'attività diciamo primaria per la persona che fa questo lavoro è un'attività familiare, quindi ci sono alcuni vantaggi. Però questo è tutto da verificare. E' tutto da verificare. Quando non c'è uno su bianco, si parla di ipotesi. Esatto, esatto. Insomma, questo è un argomento ovviamente complesso. Molto complesso. In questo spazio ha portato via quasi interamente il nostro spazio a disposizione, ma probabilmente ce ne sarebbe bisogno ancora di alto. Bisognerebbe parlare una giornata intera. Scusa che magari lo faremo anche mettendo a confronto diverse voci. Volevo un attimo anche parlare del momento, dell'oggi, dell'attuale, questa stagione turistica che è iniziata. Ormai siamo in piena estate. Come è iniziata? Che prospettive ci sono? Allora, innanzitutto diciamo che è iniziato col botto, nel senso che il mese di maggio è stato un mese che ci ha preso un po' di... perché siamo stati... Anche dal clima... Dal clima, dalla voglia della gente forse che è stata chiusa per tanto tempo e quindi aveva voglia. Adesso stiamo un attimino vivendo un momento, un effetto elastico, quindi diciamo durante la settimana le spiagge sono abbastanza vuote, poi sabato e domenica c'è il pienone. C'è un boom. Adesso si attende il mese di luglio quando arriveranno i turisti da fuori regione e quindi sicuramente le spiagge si riempiranno, sono tutte già allestite al massimo livello. Insomma, si è detto e si è sentito anche sui mezzi di informazione e comunque c'è stata anche una corsa alle prenotazioni, pare che gli ombrelloni insomma siano ormai già tutti prenotati. Merce rara, sì. Quindi questa è la conferma che ci si aspetta un'estate con tanti turisti. Sì, questa sì è la conferma sia che ci si aspetta tanti turisti, ma è la conferma anche di un modello di turismo che è basato su un tipo di offerta, un tipo che innanzitutto è una tipicità italiana, questo è come il formaggio di fossa, cioè questa è una cosa che l'abbiamo inventata noi. Il primo stabilimento valneare nella costa triatica è nato a Rimi nel 1843. Prima è nata la struttura balneare, poi sono nati gli alberghi e le pensioni, perché è stato quello che ha fatto da Traino. Quindi noi dobbiamo capire questa importanza. In Italia senza il turismo balneare non c'è turismo. E' andare a stravolgere questo modello che è vincente, è pericolosissimo, ma non solo per la categoria, ma anche quindi noi questi punti interrogativi li abbiamo tutti riportati nei tavoli tecnici a tutti i livelli, tranne che con Draghi, che con noi non ci vuole parlare, due o tre volte direttamente non ci vuole parlare con noi. Avete subito anche voi gli effetti dei rincari di costi, materie prime delle bollette che stanno pesando un po' su tutti i settori. Noi come tutte le attività abbiamo, a parte l'energia, ma abbiamo subito dei rincari anche sui materiali per quanto riguarda le attrezzature e quant'altro. Questo ha avuto una conseguenza anche sui prezzi applicati. Io per quanto riguarda la nostra cooperativa noi abbiamo fatto degli aggiustamenti che non sono degli aumenti perché si aggira sotto il 5%, sono stati cambiati alcuni parametri sulle file più che altro, ma comunque noi abbiamo confermato i prezzi dell'anno scorso. Il problema più grande che abbiamo oggi, qui voglio fare anche un appello purtroppo, è il personale. Il personale, infatti lo volevo toccare in questo punto, magari velocemente perché stiamo andando a conclusione. Avete avuto difficoltà a trovare personale, avete tutt'ora? Abbiamo difficoltà, abbiamo attivato tutti i canali. Posti disponibili, posti di lavoro. Io faccio un appello, chi avesse voglia ci può contattare sulle nostre pagine social, mandare il curriculum, noi abbiamo bisogno di persone, assistenti di cucina, cuochi, baristi, assistenti ai bagnanti in spiaggia, di tutte le figure professionali che operano all'interno dello stabilimento balneare, noi abbiamo bisogno di personale. C'è posto, avanti c'è posto. Avanti c'è posto. Molti dicono che magari le condizioni spesso di lavoro, dei contratti possono essere state non incentivanti rispetto a chi volesse lavorare nel settore del turismo stagionale, no? Ci sono i contratti nazionali che noi applichiamo, io tra l'altro sono stato un ragazzo che si è fatto diverse stagioni, adesso non sono più un ragazzo, però un ragazzo di 18-19 anni, 20 anni che fa l'università, si fa due mesi di stagione e tra due stipendi, licenziamento, quindi TFR, guadagna 6-7 mila euro, io non penso che sia una cosa brutta. L'appello è a valutare queste opportunità che ci sono nel settore del turismo balneare perché ci sono le opportunità, insomma. Ci sono le opportunità. Per quanto riguarda voi imprenditori c'è la necessità di tutt'idea questi spazi. Noi abbiamo una grandissima necessità. Benissimo, allora noi dobbiamo fermarci perché davvero siamo arrivati al termine del nostro spazio, io ringrazio di cuore Luigi Corradetti per essere stato con noi, ricordo ancora il vicepresidente della cooperativa dei balneatori Lidi delle Rose di Roseto e Pineto. Grazie e buona estate. Grazie a voi per averci ospitato. Noi ci fermiamo qui ma I Conti in Tasca tornerà ancora la prossima settimana con una nuova puntata. Grazie e arrivederci.